guarda qua, adesso facciamo la visita alla parte alta del borgo fino alla chiesa questo è il cammino di celestino, guarda qua, il cammino di celestino guarda che bello andiamo a visitarlo qua su vediamo se hanno restaurato tutto o quasi parecchio tempo che non ci vengo, sarà un paio d'anni, forse un anno piano piano senti il rumore del campanaccio di cavalli andiamo a vedere piano piano il pondo più alto è quello mi sembra dall'altra scala l ma il punto più alto è quello piano piano è possibile piano 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 piano